Una bella partita, molto aperta, quel gol ha tagliato un po' le gambe dall'inizio del primo tempo. No, no, non ci ha tagliato le gambe, noi abbiamo fatto una buona partita, la squadra ha giocato bene, abbiamo preso il gol subito, dopo la squadra ha giocato, ho cercato di giocare, abbiamo avuto il rigore, abbiamo fatto il gol, abbiamo avuto due o tre occasioni prima del rigore. Saurino. La partita l'abbiamo fatta bene, dopo è normale, questa è una squadra forte, dopo ci sono stati momenti che abbiamo dovuto soffrire, però la squadra si è compattata nei momenti di difficoltà, io sono molto contento, la squadra ha fatto bene. Eravamo stanchi, dovevamo girare un po' più la palla, fare anche un passaggio in più, fare la superiore numerica venendo da dietro, stare un po' più larghi, quelle sono cose normali che quando sei un uomo in più devi fare. Noi non l'abbiamo fatto, però va bene così, la squadra l'ha fatto bene, non si può chiedere. Hanno speso molto, dopo erano anche stanchi mentalmente, quindi dopo quando sei appannato non fai le cose con lucidità. Allora sono rimasti in dieci, in nove al novantesimo, quindi non era facile. Troppo tardi? Troppo tardi, sì. Il secondo tempo è stato un po' meno giocato del primo? Sì, dopo abbiamo cambiato un pochettino per stare più compatte a me da campo, ma dopo abbiamo dovuto soffrire, erano momenti di sofferenza, ci stanno con una squadra forte che non ha mai persa, però anche il secondo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni da fare gol. Loro erano pericolosi solo sul calcio d'angolo, punizioni laterali, il portiere nostro non ha fatto una parata. Anche domenica è una finale, a Giuliano comunque è difficile. A Giuliano è difficile, però noi andiamo a giocarcela. Pensi ancora alla salvezza di Reggio? Vediamo fra un mese e mezzo.